Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio, Francesco Forner, 40 anni di Vittorio Veneto, era a terra, seminudo, poco distante, la sua auto in un piazzale. Immediatamente sono arrivati sul posto con l'elicottero agli uomini del suo M118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il quarantenne forse è stato raggiunto da un improvviso malore, mentre stava viaggiando lungo la Pedemontana. All'altezza del casello di Montebelluna è accaduto qualcosa, ha accostato l'auto, è riuscito a fermarsi a bordo strada, evitando il pericolo per le altre vetture in transito. Poi è sceso dalla macchina, ha percorso qualche passo ed è caduto a terra. È stato un automobilista a vedere qualcosa sulla strada, si è fermato e si è accorto della presenza del quarantenne. I sanitari dei mezzi di soccorso hanno inutilmente cercato di aranimare la vittima. È stato disposto all'esame autoptico per accertare la causa del decesso sul luogo della tragedia. Oltre al personale del suo M118, è intervenuta anche la protezione civile di Montebelluna e gli agenti della polizia stradale, che ora indagano per far luce sul decesso.